Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, no stavo facendo una roba con la videocamera, no eeeh Che cazzo è successo? L'ho rotta? Bene, bene, credo si sia appena scassato l'obiettivo, fantastico Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ And today siamo tornati su Happy Wheels Allora ragazzi la prima roba che vedo, la prima, oh la prima Oh Slithery, oh Snake, oh, spiegami che cazzo di nome stupido Ah, play now, io voglio capire una roba ragazzi, ma perché fanno livelli di Slithery o... Ecco, eh mi sono dato la risposta da solo Non ho capito veramente perché fanno i livelli di Slithery o su Happy Wheels In un mondo parallelo ragazzi ci sono i livelli di Happy Wheels su Slithery o il contrario You need to jump on the snake then jump on the finish line Grazie, minchia come, guarda adesso sì che lo finisco Con la gamba vale? No eh Oh porca di quello amigno, eeeh va bene Ragazzi è impossibile Vi giuro Cos'è successo? Ho lanciato il Pogo a caso, va bene Mi spiegate perché ha lanciato il Pogo sto Cristiano? Va bene, non importa, va bene così Pogo Pro 4? Eh va bene, la madonna Cos'è sta roba, santo iddio? Ma veramente? Ok, ho guadagnato un pene, posso vincere adesso? Vi offendete se vado? Grazie Cioè qualcuno mi spiega come ho fatto a perdere la testa, vi prego Ragazzi io li adoro sti livelli, non lo so perché Stavo scherzando, fanno proprio cagare a spruzzo Come fai a essere così? Oh Ma dai, quanti problemi per finire un livello stupido? Niente oh raga, è impossibile Però sei più sexy così, devo ammetterlo Posso farti una domanda, non puoi arrivare semplicemente al traguardo Invece di twercare a caso? Ok, scherzavo Ragazzi non ho capito seriamente cosa devo fare per Ma non ho neanche toccato il traguardo Va bene, va bene, va bene, va bene Ok, sti livelli sempre più strani nella vita Va bene così Parkour Master 2.0 Devo fare il parkour Io? Ma mica, ma manco mi alzo dal divano io Ma che cazzo? Veramente? Cos'è sta roba, santo iddio? Devo fare il parkour Ma tu sai con chi stai parlando zio? Che una volta sono sceso da un gradino E mi sono slogato una caviglia L'importante è che la bici abbia una vita felice Poi, vabbè Come ho fatto a morire prima che non mi ricordo? Ah, così giusto E vabbè, ma micchia Ok, piano, piano qua Perfetto, ce l'ho fatta Ho superato il punto di prima ragazzi È già qualcosa Ok C'ho solo una gamba Perfetto Ma no! Ma quanto sei scemo? Micchia, se morivo alla fine schiacciando Mi ho lasciato sul muro Mi mettevo a ridere, giuro Sword the fight Ah, una battaglia Sì Una battaglia con le spade decente però Questa è la morte più brutta della storia Della vita di Happy Wheels Proprio bruttissimo Ho inglobato Nonno Chuck nella mia bici Perfetto 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 Madonna, li sto matendo tutti Non è poi... Oh, ragazzi Io in genere suco a sti livelli Non so come sto... Perché... L'obesa mi ha salvato la vita Non so come Ragazzi ho fatto una cosa incredibile No, vabbè, non ci credo Allora, ragazzi Io in genere sui livelli Faccio veramente cagare Non so come ho fatto a vincere Impossibile The Clocks Challenge La challenge degli orologi È la madonna che figo Però tipo Hold the control before... L'ho preso! Cos'è? Cos'è? Come ho fatto a pre... No, non ci credo mai Sembra la scena quella di... Di ritorno al futuro, ragazzi Uguale Grande Mica, ma è un fenomeno È un fenomeno Veloce Tirati su, zio Tirati su Tirati su Dove sta andando? Cosa fa? È scemo No, ragazzi Devo ripartire perché non riesco Devo tenermi il poco Ce la posso fare, ragazzi Non è così difficile Il problema è... Ok È la madonna Quanti sono? E ho finito? Ok Ho avuto l'ansia Perché sono caduto nel vuoto Fantastico Rob Swing V4 Questo mi sembra decente Dal titolo Mica, è diventato un'acrobata, Eddie Da un livello... Perché c'è sliterio nei livelli? Basta Fatevi una vita Non è sliterio, Epi Non potete mettere sliterio in tutti i livelli Non ha senso Me la volete spiegare, sta roba? Che ancora non la capisco Perfetto 324 Non ho letto cosa ce l'ha scritto Devo imparare a leggere, ragazzi È una specie di quiz in tempo reale Io non ho manco capito il quiz Figuratevi la... La fare l'addizione Veloce Devo aggrapparmi Cosa devo fare? Mi fate arrivare alla fine Per cortesia Che c'ho l'ansia Santo iddio Ti è piaciuto il massaggio? Perfetto È apparsa anche una J in mio onore Grazie frate Tetris is dangerous Oh mio dio Devo aver paura di sto livello Lo so già Infatti devo praticamente schivare i pezzi del Tetris Me la cavo in sti livelli ragazzi La sono scalso a Tetris Quello normale Figuriamoci quello in Happy Wheels Qua mi tolgo La vedo bruttissima Ok Ma come? Ma se mi aveva appena sfiorato Ma cosa? Non riesco neanche a uscire di qua Dio mio Perfetto Bravo E ci voleva Sono stupido Ma vaffanculo Oh regà è impossibile Cioè ragazzi è veramente il livello di Happy Wheels Più incasinato che io abbia mai fatto ultimamente Cioè dio mio Quanto è difficile Perfetto Schivatissimo vai Eh vabbè ma micchia Se mi metto là sopra Posso arrivare là sopra? Se tipo salto su un pezzo del Tetris Che sta accadendo Posso Ci ho ripensato Micchia stavo facendo una figura di merda Regà Devo saltare Non qui Mi sono rotto le palle Bene The sour age The sour age che? Sì ma non ti offendere Ho fatto una domanda The sour age Che cazzo vuol dire? Io e l'inglese ragazzi Sono fantastico Non ho letto niente Ma ho scassato un muro Va bene? Non è un problema Perfetto Spero che quel muro non fosse di qualcuno Questo muro sembra più forte Ho bisogno di un martello Per scassarlo Va bene Dove lo trovo? Che sono? Ma per chi cazzo mi hai preso? Per Thor Ah ecco perfetto Hai preso un martello Va bene E ora cosa devo fare? Vuol cliccare sul muro? Ah no si sca... Ah perfetto Ho preso un martello Me lo sono messo nel pube E vado di penate sui muri Si scassano tutti Ma è così zio carico? Perché devo infilarmi nei pertugi? Questo qua è già difficile Ok Tra l'altro Questi muri sono fatti di carta pesta Il soffitto sta collassando Devo tornare indietro Ma zio mi si sono staccate le gambe Non riesco neanche più Ma cos'è sta roba? Eh vabbè Allora sei stronzo Ragazzi sta collassando il soffitto Ok Vi rendete conto che sono diventato un pokemon In tutto questo? Vai Vai No dai Eh vabbè E vabbè Ero rimasto senza gambe Vabbè dai Non importa Sono arrivato tanto avanti Basta questo 99% impossible 3 Lo di... Ah devo fare tipo Ok vai Già sono arrivato qua sopra Già un traguardo Ci arrivo Non ci posso credere 888 Confirm Di quasi un numero però The tab phone preview Cos'è The tab phone preview? Jump to win Siri Loading Slay Eh vabbè Non ci credo Veramente No vabbè ma che figata Così lo blocchi Eh ma c'è anche Siri Slide to unlock Perfetto Orologio Eh vabbè Facile così Micchia Fammi vedere l'orologio Che gira Con tanto di Sasha Gray Attaccata alle lancette FaceTime Non va FaceTime Il calendario Non va il calendario Non va un cazzo di sto telefono Perfetto Note Fai i compiti Fatto Party It's time to party Phone Veramente Vabbè ragazzi Provo a mettere il mio numero Per vedere se Se mi chiama Ma non credo che funzioni E poi ci provo Volevi Tanto sono convinto Che non funzioni Questa roba ragazzi Però nel dubbio Lasciamo perdere Messages Whatsapp Va bene Mail Safari Beh abbiamo figo Siri È comunque più intelligente Della Siri Quella vera Quindi va benissimo 5 su 5 Livello dell'anno ragazzi Color confusion Che cazzo è Oddio Mi fanno Eh va bene Ah nel senso che Quando ho capito Che cazzo è successo No vabbè bellissimo Come mi sono salvato Perfetto Devo saltare tipo Velocissimo Madonna che culo Non ci posso creare Come ho fatto a salvarmi Tipo c'avevo metà corpo Va bene La caverna di cristallo Cazzo è frozen Control Click here to play Si però stai calmo Dove devo andare Ma perché sono in una caverna Con un elicottero Spie Qualcuno ha voglia Di spiegarmi Che cazzo ci faccio In una caverna Con un elicottero Qual è il senso Di stare Tutte Ma come faccio A leggere Che manco So andato dritto Io Fa chi è Non ho ben capito Questo dovevo fare Però va bene Flappy bird Ragazzi Chiudiamo con un livello decente Spero che sia decente Vabbè Se non altro È almeno ingegnoso Almeno si può finire Non come quello di prima Perfetto Perfetto un cazzo Ah perché non posso Toccare i bordi Ok fermi Ce la posso fare Non lo sento Vai frate Non devo toccare i bordi Perché se no salto in aria Perfetto ho capito Vai Ma ve lo ricordate Flappy bird Che tragedia che era Sono stupido Vai 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 frate Vai frate Vai frate Vai frate Vai frate È così che conquisti la figa È così che conquisti la figa Vai fratello Sono ancora vivo Porca mia Non ci voglio credere 66.000 like Li voglio tutti Dopo questo Li voglio tutti Allora ragazzi Concludo qui Mi sono anche cascate le cuffie Vabbè Concludo qui l'episodio Con questo finale epico Cioè no vabbè Ho fatto a vincere Ero morto a metà livello Vabbè Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi Come se vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace Tanti mi piace Proprio tanti Devo esplodere il tasto stavolta Io in tutto questo Ancora non ho trovato Il coperchio Del mio telecomando Però vabbè Come se vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace Anche la pagina di facebook Come nei video Stavate nella descrizione Se non so Se non so Ti schiacciate E ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Ciao